Il treno regionale veloce, 10-1-2-2, di Trenitalia, proveniente da Savona, è diretto a Torino-Portanuova, delle ore 6.32, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Fossano, Savigliano, Cavaller Maggiore, Carmagnola, Torino-Lingotto. Il treno regionale, 46-81, di Trenitalia, proveniente da Fossano, è diretto a Savona, delle ore 6.40, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce, 10-1-2-4, di Trenitalia, proveniente da Ceva, è diretto a Torino-Portanuova, delle ore 7.06, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Fossano, Savigliano, Cavaller Maggiore, Racconigi, Carmagnola, Torino-Lingotto. Il treno regionale, 46-78, di Trenitalia, proveniente da San Giuseppe di Cairo, è diretto a Fossano, delle ore 7.20, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Magliano-Cravamorozzo, Trinità-Benevagenna. Il treno regionale veloce, 10-1-0-1, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Ventimiglia, delle ore 7.28, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ceva, Cengio, San Giuseppe di Cairo, Savona, Spotorno-Noli, Finale Ligure-Marina, Borgio-Verezzi, Pietraligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio, Lagueglia, Andorra, Diano, Imperia, Tagiarma, Sanremo, Bordighera. Il treno regionale, 46-80, di Trenitalia, proveniente da Ceva, è diretto a Fossano, delle ore 7.52, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia, per Cuneo, è in partenza dal binario 4. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, di Trenitalia, proveniente da Cuneo, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 17-45, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto al Benga, delle ore 8, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ceva, Cengio, San Giuseppe di Cairo, Savona, Spotorno-Noli, finale Ligure-Marina, Pietraligure, Loano. Il treno regionale, 46-83, di Trenitalia, proveniente da Fossano, è diretto a San Giuseppe di Cairo, delle ore 8.40, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce, 10-1-0-9, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Savona, delle ore 11.28, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ceva, Cengio, San Giuseppe di Cairo. Il treno regionale veloce, 10-1-3-5, di Trenitalia, proveniente da Ventimiglia, è diretto a Torino-Portanuova, delle ore 18.32, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Fossano, Savigliano, Cavaller Maggiore, Carmagnola, Torino-Lingotto. Il treno regionale, 17-47, di Trenitalia, proveniente da Albenga, è diretto a Torino-Portanuova, delle ore 19.53, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Fossano, Savigliano, Cavaller Maggiore, Racconigi, Carmagnola, Torino-Lingotto. Il treno regionale veloce, 10-1-2-7, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Ceva, delle ore 21, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Vicoforte-San Michele, l'esegno.